L'HST è un turbocompressore ad alta velocità, adatto per il trattamento delle acque reflu e per le applicazioni industriali. Assicura all'utilizzatore una maggiore sostenibilità dell'investimento, riducendo costi energetici e di gestione. Basato sul rivoluzionario concetto di un singolo elemento rotante, il sistema di cuscinetti magnetici è progettato per mantenere il rotore in levitazione sin dal momento in cui l'unità viene attivata. Questa caratteristica elimina il contatto fra le parti in movimento e quindi l'usura meccanica. L'unità di compressione ad alta velocità è integrata in un'unica struttura compatta, che incorpora anche un variatore di frequenza raffreddato ad aria. Il motore elettrico è raffreddato ad aria. L'aria aspirata una volta filtrata fluisce direttamente alla turbina di compressione. Il turbocompressore HST viene consegnato completamente preassemblato e testato, facilitandone così l'installazione. È leggero e non servono grudi sollevamento. L'ampia gamma di modelli disponibili consente di fornire la migliore configurazione per il vostro impianto, inclusi gli accessori necessari al collegamento delle tubazioni aria. Non appena l'HST viene avviato, noterete che è incredibilmente silenzioso. Potreste fare addirittura meno delle protezioni acustiche. Con l'installazione di turbocompressori HST potrete contare su un'affidabile ed efficiente fonte d'aria compressa per molti anni a venire. Confrontando il turbocompressore HST con il vostro attuale compressore, riscontrerrete notevoli risparmi energetici. Ovviamente sono disponibili anche altre tecnologie di compressori. I compressori centrifughi monostadio con moltiplicatore di giri sono lubrificati ad olio e quindi soggetti a usura meccanica. Questo vale anche per i compressori volumetrici a vita. I turbocompressori ad alta velocità, con cuscinetti, ad aria, sono anch'essi soggetti a usura meccanica, oltre a richiedere talvolta sistemi di raffreddamento ad acqua. Il turbocompressore HST è l'unico compressore che non richiede lubrificanti o refrigeranti e non si usura. Questo si traduce in un ciclo di vita più lungo e richiede pochissima manutenzione. Nel 1996, quando il turbocompressore HST venne lanciato, era un prodotto unico al mondo. Oggi migliaia di unità funzionano efficientemente in tutto il mondo. Questo non stupisce se si considerano i grandi benefici che si ottengono scegliendo il turbocompressore HST, il compressore più efficiente e affidabile al mondo.